Bentornati su Noma Mammazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica D-Landog Colorfest, parliamo oggi insieme del numero 49, Lettere dall'incubo, dopo la sigla D-Landog numero 49, Lettere dall'incubo, una storia sola, inedita e completa con la storia di Giovanni di Gregorio e i disegni, la colorazione e la copertina di Emiliano Tanzillo se questo nome non vi è del tutto nuovo è perché state leggendo Samuel Stern e Tanzillo è uno dei copertinisti ho apprezzato finalmente vedere il suo tratto dall'inizio alla fine, non è la prima volta che lo vediamo disegnare una storia però qui l'ho apprezzato anche perché c'è di mezzo il colore, c'è di mezzo la copertina quindi ha fatto quasi tutto Tanzillo a piene mani, ad eccezione ovviamente della storia che è di Gregorio se mi seguite sapete che io adoro quando il Colorfest tratta una storia sola, completa piuttosto che tre piccole storie, che comunque apprezzo come esperimenti però l'idea di leggere una storia unica, colorata, l'apprezzo sempre di più e l'apprezzo anche di più quando i colori, i disegni e i colori sono di questa fattura e so che molti come me converranno che è bello vedere Dylan in uno stile sperimentale, magari cartunesco una delle mie storie preferite è con lo stile cartunesco ma quando ci sono questi tratti appunto che si prestano benissimo anche alla storia una storia ambientata nell'epoca vittoriana con questi disegni, questa colorazione, queste tinte molto ottocentesche è davvero bellissimo da leggere, da vedere tra l'altro in questi giorni il tempo, il meteo ci ha accompagnato perfettamente in questa storia questa storia è in una Londra appunto vittoriana dove piove per la maggior parte del numero piove anche in copertina e piove mentre lo abbiamo letto probabilmente ed è questa colonna sonora naturale che ha aggiunto verosimiglianza alla narrazione è stata davvero un tocco in più che madre natura ci ha donato spero che anche voi l'abbiate letto con un po' di pioggia sotto le coperte con un po' di pioggia fuori dalla finestra allora appunto è una storia ambientata nell'epoca vittoriana quindi è un Dylan Dog non canonico ammesso che il Colorfest lo sia quando tratta di storie nel presente o negli anni 80 è un Dylan Dog se vogliamo parlarla come va tanto di moda adesso in modo multiversale è un Dylan Dog di un altro universo ambientato appunto nell'epoca vittoriana nell'ottocento e però a parte questo si colloca perfettamente nell'ambientazione tra i suoi diciamo colleghi letterari tra cui appunto Sherlock Holmes che qui non appare ma avrebbe potuto apparire tra Jack lo squartatore che purtroppo è esistito davvero anche se ci hanno romanzato parecchio e tra Dr. Jekyll e Mr. Hyde che è qua in questo numero vediamo è stato molto bello coinvolgere il Mr. E che poi appunto si è rivelato Edward Hyde cosa che se siete amanti del libro di Stevenson dovreste aver colto fin dall'inizio mi è piaciuto il plot twist finale su Edward Hyde ovvero che spero di non fare spoiler mi raccomando se non l'avete letto il numero fermatevi adesso il plot twist finale sul fatto che appunto la personalità dominante era quella di Edward Hyde che il siero che lui ha creato era per liberarsi del male e non per sperimentare appunto sulla natura malefica degli umani quindi scoprire che il Dr. Jekyll è stato appunto una creazione di Mr. Hyde e non viceversa è stato un fantastico plot twist tra l'altro usato non come trama principale ma così come plot twist senza che ci si soffermasse più di tanto ed è stato proprio un tocco di classe toccarla piano così senza darle una specificità diciamo che io ho sospettato fin da subito su chi fosse Dr. Jekyll scusate su chi fosse Jekyll lo squartatore forse perché appunto diversamente dalle altre volte ci si è soffermati un po' troppo forse sulla rottura tra Dylan e una delle sue tantissime donne di cui si innamora e dato che girava molto attorno a questa rottura molto attorno al passato di questa donna che gli impediva di avere nuove relazioni e il suo sdegno per le prostitute mi ha fatto capire che c'entrava qualcosa questa ragazza e che c'entrava qualcosa anche con Mr. Hyde insomma avevo un pochino capito il triangolo amoroso che si stava dipanando nella storia ma è stato un piacere comunque essere portato a questa consapevolezza lungo queste pagine un numero che ho apprezzato tantissimo un numero simile spero di vederlo altrettanto presto anche se tra tre mesi ci sarà il Graucio Sesto che comprenderà delle storie ancora tre storie complete non inedite e quindi spero che tra sei mesi invece di rileggere appunto una storia dilaniata completa o comunque delle storie su Dylan quantomeno inedite nulla da eccepire su questo numero anzi complimenti a Tanzillo che l'ho visto disegnare oltre a volti maschili dove appunto vedo quasi sempre volti maschili in copertina ho visto il volto di Carmen in queste 90 passapagine e ho apprezzato tantissimo come disegna i volti femminili le espressioni facciali è stato molto molto bello tra virgolette innamorarsi insieme a Dylan di Carmen fino alla fine di questo numero ovviamente anche ho apprezzato tantissimo questo look ottocentesco da Dylan Dog molto carino con l'aggiunta del gilet del cappello a cilindro di un cappottone molto 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 interessante mi sarebbe piaciuto peccato che appunto Mr. Hyde è stato eliminato in fretta in questo numero non mi dispiacerebbe vedere sempre un Dylan Dog alle prese con Mr. Hyde dove Mr. Hyde è più al centro della storia mi sarebbe mi piacerebbe vederlo anche se appunto non potrebbe essere ambientata dopo questa storia né prima perché Dylan prima non lo conosceva però appunto ci sono tanti universi e sarebbe carino magari riprovarci a unire questi due personaggi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia io l'ho apprezzata tantissimo scrivetemi qui sotto nei commenti già che ci siete se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo numero giudini Grazie.